Quando ho cominciato a parlare di Fiamme Giammele su questo canale, molte di voi mi hanno contattato in privato, un grandissimo onore di questo, vi ringrazio, e hanno deciso di raccontarmi la loro storia, in molti casi storie bellissime anche se tormentate, ognuna ha un percorso diverso, ma alcune secondo me mi raccontavano di veri e propri rapporti tossici. Io questo l'ho detto, ma molte si sono arrabbiate, ribadendo che io non capivo, non potevo capire, e che quelle erano le loro fiamme, e che amore incondizionato significava accettare tutto dalla propria controparte. Diciamo che forse adesso le cose sono un po' cambiate. Prima non era proprio così. E fin dai primi video ho detto, apertamente, che l'amore incondizionato secondo me doveva partire prima nei confronti di se stessi, poi della propria controparte, della propria fiamma. Di questo ero sicura, ma sono anche sicura che a volte le etichette, come fiamme gemelle, sono etichette molto molto pericolose. Capisco anche che le fiamme sentono di vivere un rapporto particolare, di paragonabile a niente altro, a nessun altro tipo di rapporto e spesso si sentono incomprese, non capite? Si trovano nel caos. Ma una cosa la so, che quando il rapporto è fatto di abuso, sia verbale o fisico, di svalutazione, allora non può essere la vostra fiamma. Vi faccio un esempio. Quando perdete un caro, se a qualcuno è capitato di perdere una persona amata, non lo so, un padre, una madre, un parente, un fratello, un amico, voi sicuramente non smettete di amarlo perché non c'è più. L'amore è eterno. E quindi se la vostra fiamma, la vostra controparte veramente vi ama, non può smettere di amarvi, non è possibile. Non voglio dire che in qualsiasi rapporto, non solo quelle delle fiamme gemelle, ci siano degli scontri, ma ci deve essere comunque una crescita, anche in un bisticcio. Se una persona vi ama veramente, quel bisticcio diventerà qualcosa di costruttivo. Se una persona vi ama e sente di aver sbagliato, farà di tutto per recuperare quell'errore. Ma se questo avviene ciclicamente, allora probabilmente siete in un rapporto tossico. Ecco perché molti credono che la loro controparte sia narcisista. Forse non è la vostra controparte, ma solo un narcisista. Quando una persona vi denigra, vi umilia, vi svilisce, non vi ama. Se è vero a volte nelle discussioni partono parole grosse, ma sono discussioni, nulla di più. Se per quella persona non siete mai abbastanza, malgrado voi, ritenete di fare il massimo, allora quella persona non è sicuramente la vostra controparte. Una persona che vi ama, vi accetta. Certo, questo non vuol dire che non cercherà di migliorarvi, di farvi brillare, sicuramente vi darà dei consigli, degli stimoli. Sì, certo, ma non vi denigrerà in nessun modo, perché vi ama. Potreste fare questo a qualcuno che vi ama. Pensateci. Molte di voi si sforzano di essere come vorrebbe la loro controparte, ma sicuramente vi sarete già rese conto che non è mai abbastanza qualsiasi cosa voi facciate. È veramente questo il rapporto che voi volete, perché siete convinte che è la vostra fiamma. Ma anche se lo fosse, pensateci bene. Che cos'è che amate di questa persona? Amate questa persona che magari vi denigra, vi umilia, vi offende? O amate piuttosto come vi faceva sentire all'inizio del rapporto? Io credo che sia questo. Avete mai pensato che forse focalizzandovi solo sul fatto che quella è la vostra fiamma? State chiudendo le porte a chi magari potrebbe amarvi veramente con tutto il suo cuore e che vi trova veramente speciali ed uniche. Parlo al femminile, ma questo discorso vale anche per i maschietti, ovviamente. so che molte di voi in realtà pensano non troverò mai per mai una persona così bella, intrigente, simpatico. Oppure non so, sono troppo avanti con gli anni, sono troppo magra, sono troppo grassa, sono troppo stupida. Non troverò mai nessuno come lui o come lei. Beh, non è così, ve lo garantisco. Nella mia famiglia ci sono donne che si sono sposate, superati i 70. Quindi, quando trovate qualcuno che vi ama veramente, allora non importa quanti anni avete, quanto pesate, quanto siete simpatiche, simpatiche, antipatiche, intelligenti. Oppure volete veramente qualcuno che non vi ama per ciò che siete? Cosa c'è di più bello di essere apprezzati per ciò che si è? La vostra controparte, se tale è come nessuno, vi dovrebbe trovare insostituibili. La verità è che nella maggior parte dei casi, quando la vostra controparte sparisce, è perché sta dedicando le sue attenzioni ad un'altra o ad un altro. Aprite gli occhi, è questa la verità. Lo so che fa male, ma è questa la verità. La cosa che dovete fare, mi permetto di consigliarvelo, è di amare prima di tutto voi stessi. Nessuno è migliore di un altro. Abbiamo tutti dei talenti, chi più chi meno. Chi più chi meno. Nessuno può permettersi di denigrarvi. Siete convinte di amare veramente chi vi denigra, chi vi umilia. Capite che non è amore, che non può essere. Forse è davvero narcisismo, non lo so. Non ho le competenze per dirlo. Ma so per certo che se io amo qualcuno, non posso né abbandonarlo, né denigrarlo. Non posso, è impossibile. State molto attenti a questa etichetta di fiamma gemella, perché veramente può distruggervi. Dimenticate questa parola. Cominciate a lavorare su voi stessi. L'unica persona che veramente dovete amare incondizionatamente e con tutto il cuore è la persona che vedete ogni mattina davanti allo specchio. Siete voi. e io vi garantisco ora che quando vi amate incondizionatamente brillerete e attirerete le persone giuste nella vostra vita. Non importa se fiamme, non fiamme, non importa. Ma l'amore deve essere felicità e non dolore. Non vi sto dicendo, come qualcuno mi ha chiesto, se si vive un'eterna luna di miele. I rapporti sono fatti di alti e bassi, per carità. Ma sicuramente quando c'è l'amore si va avanti. Una persona che vi ama, lo ribadisco, non vi abbandonerà mai, perché non può, non può, non può. So che molti di voi stanno soffrendo e questo mi dispiace tanto. Forse molti di voi hanno bisogno magari di un sopporto psicologico serio, di qualcuno che vi possa aiutare. Se siete veramente in questa situazione, sentite davvero il bisogno di essere aiutate, beh allora fatelo, non c'è niente di male, non c'è nulla di male. Nessuno è invincibile. A volte si può avere bisogno di qualcuno che magari ne sa più di noi, che ci può sopportare, aiutare, tendere una mano. spero veramente per tutti, non solo per le fiamme, che anche questa fase del Covid ci abbia insegnato qualcosa, che nella vita tutto può cambiare in un istante. Nulla è certo. bisogna accettare il cambiamento, ma soprattutto diventare consapevoli che nessuno deve denigrarci, umiliarci. Una persona così non merita assolutamente mai, fiamma o no, la nostra attenzione ed il nostro amore. Se proprio volete amare comunque una persona così, ok, fatelo, ma lasciatela andare. E magari se vi blocca sui social, se vi blocca sul telefono, ecco, ringraziatelo. Ringraziatela, perché vi sta facendo un favore. Riprendete in mano la vostra vita. Riprendete in mano la vostra vita. smettete di piangere per chi non lo merita. Smettete di soffrire chi ha sputato sul vostro amore. Un abbraccio grande. Ci vediamo al prossimo video.